Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 9 ottobre, si venera San Dionigi e compagni. San Dionisio, vescovo di Parigi, fu uno di quegli uomini apostolici i quali, con la loro predicazione, portarono il lume della fede nelle Gallie. Predicò da principio il Vangelo in più luoghi e città di quel regno. Prese in sua compagnia e per i suoi coadiutori del Ministero della Parola un santo prete per nome rustico e San Eleuterio di Acono. con essi si avanzò sino alla città di Parigi, dove fissò la sua dimora. Confortato ed assistito dalla Divina Grazia, cominciò ad annunziare la verità della religione cristiana ed avendo ottenuto dal Signore il dono dei miracoli, portò molti alla cognizione e al culto del vero Dio. Cresciuto il numero dei fedeli, edificò una chiesa nella quale si radunavano a lodare Dio e a celebrare i divini misteri. Gravemente da ciò irritati gli idolatori fecero arrestare Dionigi con i suoi due discepoli ed avendoli dapprima sottoposti a vari tormenti, in ultimo posero termine al loro glorioso combattimento col farli decapitare. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo attraverso le notizie riportate dalla Repubblica, il Corriere della Sera. Iniziamo con il sito larepubblica.it, vediamo oggi con quali notizie apre. Iniziamo come detto dalla Repubblica, eccoci un attimino per il caricamento della prima pagina della Repubblica, vediamo come apre oggi la Repubblica, qualche rallentamento di linea, arriviamo subito, iniziamo con il Corriere della Sera, prima della Repubblica, quindi la capitale Roma, Marino Lascia e avverte il PD, quindi apriamo con la politica, farò i nomi, tiro giù tutti, video e le foto, le tappe del declino, i 27 mesi da sindaco, scontrini contestati, eccolo nella foto notizia, e vediamo lo psicodramma del sindaco, la festa dei militari di destra ed ancora la lettera a Romane e Romani, ho 20 giorni per ripensarci, temo il ritorno di corruzione e mafia, un mese di accuse dal viaggio USA alle cene private pagate dal Comune. E vediamo ancora sempre Roma, tutte le volte che Marino ha detto non mi dimetto e poi il video riportato sul Corriere, l'uscita mesta dal Comune. E dopo la guerra civile, Libia, l'inviato ONU, c'è intesa su un nuovo governo d'unità nazionale, si apre uno spiraglio dopo un anno di trattative serrate, i nomi di premier e ministri al vaglio di Trobuc e Tripoli. Ed ancora Stati Uniti, Stone, l'eroe del treno francese accoltellato in California, il video dell'aggressione. Ed ancora lui pronto al carcere, libertà per Henry De Luca, quei 65 nomi del cinema e l'appello per lo scrittore. Inchiesta a Firenze, reati finanziari, antimafia indaga sul numero 1 di Unicredit tra i 10 indagati. L'inchiesta su una presunta rete di fiancheggiatori della mafia. Il DDL Boschi, riforme, voto segreto in aula, la maggioranza a quota 147, Palazzo Madama licenzia, l'articolo 30, che amplia le materie su cui lo Stato può delegare alle regioni, sullo scutrino segreto maggioranza in calo rispetto al voto palese, ma in risalto rispetto al voto segreto di mercoledì. Ed ancora Siria, missili russi finiti in Iran, accuse USA, ma Mosca smentisce, tensione in Medio Oriente. Ed ancora il Blitz, Kosovo, lancio di lacrimogeni in Parlamento, panico tra i deputati. L'opposizione cerca di bloccare l'accordo sulle relazioni con la Serbia. Letteratura, premio Nobel a Svetlana Aleksevich, non rispetto il mondo di Putin, dichiarato a Stoccolma. Il riconoscimento alla scrittrice bielorussa, autrice di Tempo di seconda mano. Il premio letteratura alle 14 scrittrici che hanno vinto il Nobel in 114 anni, riportati sul Corriere. Ed ancora il RCS si dimette, la D lascia dal 15 ottobre, lo comunica la società e parliamo di editoria. Ed ancora Giappone, Fukushima, così la natura si riprende i luoghi devastati dall'incidente nucleare. Come un film apocalittico, nella zona evacuata dopo il 2011, autocase, ristoranti e uffici abbandonati ora sono sommersi dalla vegetazione. Il giallo nel milanese, Binasco, la madre ha trovato il figlio morto e ha atteso la fine. si era pensato a un omicidio-suicidio, ma la 76enne è deceduta a 48 ore dopo il figlio. È stata trovata sul letto con addosso gli abiti migliori e le scarpe. Era malata. Terminale. Calcio e corruzione. FIFA, linea dura del comitato etico. Blatter e Platini sospesi. 90 giorni il francese, ma non rinuncio. Ed ancora in Germania, Volkswagen, perquisizioni nelle fabbriche tedesche. Questo è il caso. Gli inquirenti hanno avviato perquisizioni a Volkswagen, quartier generale del colosso automobilistico, e in altre sedi della Volkswagen in Germania. Il colosso bancario, un altro mito tedesco vacilla. La Deutex Bank perde 6 miliardi. La banca potrebbe tagliare o sospendere il pagamento dei dividendi per il 2015. È la storia da donna uomo in tre anni. Un selfie al giorno per Jamy. Un percorso che il giovane ha documentato scattandosi una foto al giorno. lotta all'Isis, Iraq, il piano. Tornando in azione in un mese. Le foto, le missioni all'estero. L'Italia si prepara a bombardare l'obiettivo del Premier Renzi e allargare il consenso, ma evitando il voto in aula. Ed ancora Israele. Escalation in Medio Oriente. Altri quattro accoltellamenti. Ferita soldatessa. Grave ortodosso. Palestinese resta ucciso. in scontri. Ed ora passiamo alla Repubblica. Vediamo se riusciamo a ottenere la prima pagina. Ecco, la Repubblica in apertura. Così come il Corriere a Roma, Marino costretto dal PD a lasciare. Mi dimetto, ma ho 20 giorni per ripensarci. Renzi, niente primarie. Decido io il nome. Ed ancora Nobel per la pace. I tedeschi bocciano la Merkel. Non lo merita. I papabili al premio all'interno della Repubblica. Ed ancora Libia. L'inviato dell'ONU, Leon, torniamo alla notizia. Annuncia pronto il governo di unità nazionale. E crisi migranti. più poteri a Frontex e Polizia Europea alle frontiere. Il piano francese al vertice dei ministri dell'interno. Divisioni sui migranti economici da rimpatriare. Praga minaccia di chiudere confini con Vienna. Via Latasi ai più ricchi. Ville, palazzi e castelli. Salvis e prime case. in tutto 45 mila proprietari per l'erario. 91 milioni. L'anno. E l'esclusivo. Il numero 2 di Unicredit. Indagato d'antimafia per reati finanziari. Ipotesi. Favoreggiamento a Cosa Nostra. Ed ancora la Nobel letteratura alla Alexievich. Amo la Russia. Dichiarato. ma non di Stalin e Putin. Ed ancora il giubileo straordinario di Francesco tra degrado di Roma e l'arma e terrorismo. L'anno santo della misericordia al via tra due mesi. Piano speciale per difendere San Pietro dai droni. Ed ancora andiamo avanti. Sprint finale per la vendita della F1 al Qatar e al capo dei Miami Dolphins e Clestone. Pronto a cedere il controllo del Circus dell'alta velocità per 8,5 miliardi di dollari. Vettel intanto dice salvate la Red Bull. Ed ancora Fed nelle bozze la conferma del possibile rialzo dei tassi entro l'anno. Rinvio decisione e prudenza legata a inflazione. FMI sempre in breve. Poveri nel mondo. Per la prima volta sotto il minimo storico del 10%. Museo chiuso per festa privata. Viaggio nella giungla dell'arte in affitto. L'ultimo caso a Torino. Le tariffe. Le sceglie il direttore ma a rimetterci è sempre il turista. Ius soli. Cittadini italiani ma solo se promossi a scuola. Spunta eccezione nel caso in cui non si concluda il ciclo scolastico primario. E le vaccinazioni in calo. Quelle paure che riportano malattie sconfitte. Gli esperti. Troppa cattiva informazione. Garattini. Intanto anche Morbillo può essere fatale. GB italiano ucciso a Londra. Fermati due uomini. Hanno 22 e 61 anni. E non si esclude. Scott Layard non esclude altri arresti. A breve. Sempre GB dal Guardian accuse all'Italia. Bugie sul pagamento del riscatto di pellizzari. Israele. Sette accoltellati in due giorni. Due palestinesi uccisi. Il sindaco di Gerusalemme. Chi può? Giri armato. In Siria. Nato pronta a difendere la Turchia. ONG usa tre ospedali colpiti dai russi. E l'ha coltellato in California. Spencer Stone. Eroe dell'attentato al Talis. La polizia non è terrorismo. Ed ora passiamo al messaggero. Vediamo oggi come apre il messaggero. Restiamo sempre sulle notizie nazionali e dal mondo per quanto riguarda la prima parte di Mattino 6. Vediamo oggi la prima pagina del messaggero. Come apre? Sempre aspettando il caricamento. Eccoci. Apre con Marino. La resa tra i veleni. Il sindaco si dimette. Costretto dal PD. Ma ho venti giorni per ripensarci. Temo il ritorno della mafia. Dichiarato decisiva la minaccia di cinque assessori di lasciare fra tre settimane il commissario. Elezioni a maggio. E l'immagine appunto del sindaco in prima pagina. Ed ancora vediamo l'inchiesta. I PM valutano l'accusa di peculato e falso. Sempre in breve. Retroscena. C'è la tutela di Gabrielli fino al voto in primavera. Ancora oltretevere il distacco del Vaticano. Giubileo. Nulla cambia. Renzi addio tardivo. Frena sulle primarie. Il premier punta sulla società civile. Entriamo all'interno del messaggero. Quindi vediamo le notizie in primo piano. Marino quindi si dimette. Ma ho venti giorni per ripensarci. Per tutto il giorno il pressing dal PD. Poi gli assessori che uno a uno abbandonano. A sera il videomessaggio. Temo un ritorno della corruzione e della mafia. Ora è chiuso nel bunker fino alle lacrime. Gli abbracci nella notte con i fedelissimi. La minaccia del sindaco scaricato dal PD. Tenere tutti sulla graticola tra i veleni. E vediamo Renzi. Un addio tardivo. Ha dichiarato la frenata sulle primarie. Nuovo sindaco. Lezioni in primavera. Pressing su Gabrielli che però resiste. L'opzione è scegliere nella società civile. Il PD romano ha rifondato da zero. Ancora avanti. Orfini sotto accusa. Rischio l'incarico di commissario PD. Colloquio ad alta tensione tra Renzi e il presidente Dem. Contestato dai dirigenti romani. Verini ora una grande consultazione con la città. Vediamo nel taglio basso il Movimento 5 Stelle. La parola ora tornerà alla rete. Il centrodestra punta su Marchini. Di Battista, Taverna e Lombardi in pista. Ma per i vertici del movimento non sono candidabili perché parlamentari. Ed ancora nella città vince sempre l'ironia. Si mangiano pure il rimpasto. Molla o regge. Roma con il fiato sospeso si sfoga con battute da barre. Orgoglio ritrovato. Le curve si scontrano sotto al Marco Aurelio. Volano monetine. Ma anche Ignazio resisti. Ed ancora. I PM valutano l'accusa di peculato e falso. Per quanto riguarda l'inchiesta. Lunedì atti in procura. Delega alla finanza per l'acquisizione di tutti gli scontrini. Nel mirino le spese di Marino. Con la carta di credito comunale. Le fiamme gialle contatteranno la banca anche per l'aumento del plafond della card da 10 a 50 mila euro. Probabilmente nei prossimi giorni saranno convocati i ristoratori che hanno servito le cene sospette. Ed ancora. Vediamo. Arriva il commissario. Il prefetto Gabrielli è preoccupato per la complessività della macchina amministrativa fino al voto di maggio 2016. La gestione dell'emergenza verrebbe affidata a un team con due vice. In Pol per la guida c'è Riccardo Carpino. E si prospettano enormi difficoltà per mandare avanti 14 municipi e 15 società, tra cui l'Atac. I tecnici dovranno anche fare i conti con la resistenza dei dirigenti a fermare qualsiasi atto degli uffici. E vediamo nel taglio basso la chiesa e il distacco del Vaticano. Giubileo non cambia nulla. Per la Santa Sede non ci saranno ritardi. La presenza di Gabrielli è considerata una garanzia. Sempre in primo piano, Senato, primo sì al taglio delle regioni, riforme, Palazzo Madama approva gli articoli sul nuovo federalismo. Via libera l'ODG di Ranucci per ridurre gli enti l'obiettivo. Non avere più di 10 entro l'entrata in vigore del DDL costituzionale. La Lega diserta i lavori e forse Italia è spaccata. La polemica ancora, unioni civili subito in aula, asse PD, Movimento 5 Stelle, barricate del nuovo centrodestra. Il governo accelera, il tesso va in assemblea il 13 o il 14 di ottobre. Vediamo nel sommario accordo tra i DEM sulle norme transitorie per l'elezione dei senatori da parte dei cittadini. Ed ancora IVA lo stop all'aumento solo per il 2016. Lo scatto delle clausole di salvaguardia verrà neutralizzato, ma si riproporrà nel 2017 in mancanza di ulteriori coperture. Dalle camere via Libera al DEF, ma con la richiesta di flessibilità previdenziale, Zanetti, rientro dei capitali a quota 1,9 miliardi. E l'analisi, stati 2 milioni di lavoratori vicini all'età della pensione, per oltre metà delle pensionate, la segno resta sotto 1.000 euro, tutta colpa della carriera più breve. Ed ancora dal mondo vediamo la Nato, difendiamo la Turchia dai russi, vertice dei ministri della difesa. Un alleato è sotto minaccia, pronti a inviare le nostre forze. Grave errore, l'aiuto ad Assad. Erdogan avverte, potremmo non comprare più il vostro gas, il Pentagono, i missili di Mosca sono caduti per sbaglio sull'Iran. Per quanto riguarda l'offensiva, siriana per ora non sfonda, i ribelli colpiscono 8 carri armati, uccisi 13 soldati di Assad, dubbi sull'utilità dei cruis russi. Vediamo nel taglio basso, intifada dei coltelli, altri 8 feriti. Netanyahu, la risposta sarà dura. I metal detector nelle strade di Gerusalemme, scontri tra polizia e palestinesi, muore anche un ragazzo. Ed ancora mafia e finanza, nelle cronache indagato, il vice di Unicredit, sono ipotesi infondate. L'avvocato ha dichiarato, nelle perquisizioni nulla è stato trovato, perché nulla c'era da trovare, in più la persona favorita non era conosciuta. La banca milanese, siamo certi che alla fine verrà dimostrata l'estraneità dei nostri dirigenti. Ed ancora profughi, Alfano avvisa i paesi africani, stoppa i fondi, il ministro, soldi della cooperazione, solo se ci aiutano. Ieri intanto il vertice in Lussemburgo, oggi via ai ricollocamenti. Sesso nelle volanti, arrestati tre poliziotti, droga e corruzione a caserta, 16 manette, fra cui gli agenti. In servizio accompagnarono Gigi D'Alessio a presentare un cd, il cantatore, irritato e svalordito, non scelgo io chi mi scorta. Dichiarato, auto della polizia, usate anche per andare in discoteca o al bingo. Il delitto della ventenne, confessa l'ex, ho perso la testa, non volevo ucciderla. Ed ancora la storia, vediamo, difende una ragazza in California, ha coltellato l'eroe del treno francese, Spencer Stone. Ferito in una rissa, ad agosto, con due connazionali, aveva evitato una strage terroristica sul Parigi, Amsterdam. Ed ancora, salvo col lavaggio del sangue, così Michele ritorna a vivere. Ecco la storia al bambin Gesù, intervento rivoluzionario su un bimbo con gravi allergie alimentari. Sette anni, non poteva assumere farmaci. Il papà ora potrà mangiare e fare sport. Il piccolo era seduto su una botte di dinamite, ha dichiarato l'esperto. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata all'economia, poste in borsa, vale fino a 10 miliardi. Oggi arriva il via libera di Consob alla quotazione. Il prezzo delle nuove azioni è fissato fra 6 e 7,5 euro del 40% in offerta. Il 30% è riservato ai risparmiatori e il 70% agli investitori istituzionali, soprattutto esteri. Vediamo in fine il taglio basso, il rapporto, la pubblicità riparte, ma la crescita è ancora lenta. E con questa notizia e con quindi la pagina dell'economia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, ci fermiamo per pochi minuti per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti per oggi e per le giornate di domani? Magari qualche anticipazione per questo weekend? Eh sì Elisa, non sono positivi gli aggiornamenti, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, perché se da un lato al mattino la nostra regione continuerà a essere interessata da condizioni di tempo tutto sommato discreto, dal pomeriggio nel corso della giornata assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità, perché sta per giungere un'intensa perturbazione e di origine atlantica, che attualmente è posizionata sull'entroterra algerina e sull'Africa nord-occidentale, che tenderà a risalire verso le nostre regioni centro-merigionali a partire da stasera, ma ancora più nel fine settimana, favorendo la formazione e l'approfondimento di una circolazione depressionaria, la quale sarà associata un'intensa fase di maltempo anche sulla nostra regione, quindi dal pomeriggio sono previste piogge in intensificazione a partire dalla Marsica e dall'Aquilano, in estensione poi nel corso della serata nottata anche sulle restanti zone, quindi sul versante orientale, ma poi il maltempo tenderà ad intensificarsi nella mattinata di sabato, sono previste piogge diffuse e persistenti, localmente anche intense nel Terramano, nel vicino a Scolano, ma anche nel Pescarese, ma un po' tutto il territorio regionale sarà interessato da una fase di maltempo che proseguirà anche nella giornata di domenica, tuttavia già dalla serata di sabato e nella mattinata di domenica potrebbero esserci delle schiarite sulla nostra regione, ma permarrà l'instabilità, poiché questa figura depressionaria abbandonerà la nostra regione soprattutto nella giornata di lunedì, quindi insomma un weekend compromesso dal punto di vista meteorologico, è previsto anche un rinforzo dei venti da prima di Scirocco, poi successivamente nella giornata di domani venti di grecale in rinforzo, con temperature inizialmente in aumento nelle prossime ore, ma poi in decisa diminuzione a causa dei venti più freddi provenienti dai vicini Balcani, quindi questa situazione ci accompagnerà come detto per tutto il fine settimana, da domenica sera assisteremo comunque a un graduale miglioramento del tempo, attenuazione dei fenomeni e della numerosità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di lunedì, ma poi probabilmente l'ISA anche nel corso della prossima settimana saremo interessati da nuove perturbazioni atlantiche che potrebbero dar luogo a nuovi episodi di maltempo anche sulla nostra regione, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi giorni Elisa. Bene, grazie, grazie Giovanni, sempre puntuale e preciso, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E io ricordo come sempre che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma, potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati soprattutto in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco. Seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra segna stampa, passiamo alle notizie regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il centro, vediamo le prime quattro pagine, iniziamo con l'edizione di Pescara, vediamo come apre, ecco, Ponte del cielo, a rischio il milione, Pescara, gara d'appalto entro 80 giorni o si perdono i finanziamenti. In centropagina l'attrazione del padiglione del Brasile all'Expo ed ecco la rete sospesa che D'Alfonso vuole installare all'Ex Cofa. In basso Stella Maris torna il degrado, Montesilvano l'edificio di nuovo occupato, dai senza tetto e nelle crona che vediamo Palazzo d'Oro l'inchiesta non ferma, la ASL, il maxi appalto per i lavori ed ancora in Pescara il primario ascoltato in aula per cinque ore, il processo su ginecologia. Passiamo alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, vediamo la prima pagina del centro, ecco, apre con la cronaca a Rogo di Vorel Bar sotto i portici, a Vasto danni all'esterno del locale Alba, paura nel condominio. La fotonotizia in centro pagina, Chieti, lavori bloccati, le ruspe di Fastweb si fermano contro un muro romano. Nelle cronache invece senza sottopasso i bus navetta partono all'Alba in Chieti, mentre in Ortona in arrivo 20 rifugiati della Siria. In basso, gli anziani, fateci restare qui, casa di riposo in garage, gli ospiti non vogliono andare via. E poi c'è il calcio, serie B, Virtus a Bari in formato scaramantico, eccellenza, estasi vastese, vogliamo solo vincere. Passiamo alla edizione invece del centro dedicata alla provincia di Teramo. Vediamo oggi in apertura la cronaca morte di Giulia, indagato l'amico perquisite auto e casa del giovane che le chiede un passaggio in auto. Giulia, la ragazza trovata morta sulla 14 in centro pagina, processo ASL tutti assolti per l'appalto da 5 milioni, imputati l'ex manager e due imprenditori. Nelle cronache invece Pineto, spaccata in un bar, rubata la slot. In Giulia Nova i sindaci ok alla tassa di soggiorno, nuova riunione in comune. In basso, basket Antonetti nei guai, l'ex presidente del Teramo indagato per false fatturazioni e poi il calcio. Giulia Nova via il portiere minacciato dagli ultra ed ancora la di Daniello, il Teramo senza problemi economici. Passiamo alla edizione del centro dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo come apre. Eccoci in prima pagina. ragabisti morti, dirigente nei guai, Sulmona responsabile Anas indagata per la tragedia del Pulmino. Nella fotonotizia in centro, l'Aquila contestazioni all'assessore Leone, sui precari il sindaco Cialente torna ad agitare le dimissioni. In basso, squarcia le gomme della ex da Avezzano, 8 episodi di danneggiamento e pedinamenti. Nelle cronache, furgone rubato usato come ariete in gioielleria. Il mezzo era della Asl in l'Aquila, sequestro di beni agli ex vertici, confartigianato. Nello sport invece, eccellenza al via, l'Aquila rugby torna in campo per la salvezza ed ancora tricolori atletica. Sulmona va di corsa con i cadetti. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo come apre oggi la prima pagina e qualche notizia interna al giornale. Eccoci, giurisprudenza verso Pescara, Unite aprirà una succursale, ma il comune teme la fuga di studenti. In centropagina, Teramo, la proposta di Guido Campana per celebrare il mito. Parliamo di Ivan Graziani, quindi Ivan garage all'ipogeo ed ancora Pavone pronto al mandato bis. Il primo cittadino apre la campagna elettorale a Roseto. In breve, sfrattata una famiglia con tre bambini a Giulianova, a Parco Marino, il TAR rigetta il ricorso urgente di Dorazio e a Pineto, multe a raffica agli inquinatori abusivi. Ancora parla Daniello, smentiti i sussurri, nessun problema economico al Teramo. Entriamo all'interno della città. Vediamo la pagina dedicata alla regione. Nasce a Teramo l'incubatrice del futuro. Stampata grazie alla tecnologia 3D Bob, baby on board, sarà presentata all'Università La Sapienza. A ASL in 127 corrono per la carica di direttore generale la giunta regionale pubblica, l'elenco degli idonei. Tra di loro c'è anche l'ingegner Sabatino Casini nella foto. Radicali, il TAR riammette Rita Bernardini nella corsa a garante dei detenuti. Esclusione annullata perché illegittima. Ed ancora chiusa l'inchiesta Teramo Basket indagato Carlo Antonetti. Operazioni inesistenti con false fatturazioni con le società satellite. L'ex presidente Neiguai assieme ad altri due. Fallimento negato. Nel febbraio scorso il giudice ha respinto la richiesta del PM. La società resta in liquidazione. Ed ancora tentato l'ennesimo furto all'Ipersimpli. Ladri messi in fuga dalla vigilanza. Nel taglio basso invece di Irti Soccer, anche Di Giuseppe e Di Nicola ricorrono al CONI, l'ex DS del Teramo. Il dirigente ex L'Aquila Calcio chiedono di ridurre le condanne. Andiamo ancora avanti. Facciamo dell'ipogeo un Ivan Garage. Sull'onda del successo di Pigro il consigliere Guido Campana raccoglie la proposta di un'area monumentale. Ipogei differenti. L'assessore Luca Antoni disegna uno spazio lento con un caffè letterario. Campana invece punta tutto sul rock di Ivan Graziani. Lavori pubblici. Piazza Garibaldi chiuderà di notte per rifare gli asfalti e per l'ipogeo. Da lunedì disagi per il traffico sulla rotonda principale della città di Teramo. Unite giurisprudenza va verso Pescara. Teramo pronta ad aprire una succursale come quella di Avezzano ma il comune è preoccupato per la fuga di studenti. Ancora Teramo punta ai milioni di Bruxelles. Cultura, mobilità sostenibile e innovazione. Presentato il progetto per i portfers. L'assessore di Giovanni Giacomo. Nella foto Luigi Nigri, il sindaco Brucchi, Giovanni Salvini e l'assessore Luca Antoni. Su questi finanziamenti, appunto su questi tre progetti del comune di Teramo presentati per avere dei fondi europei. Vediamo il contributo video. Innovazione nel meccanismo di programmazione e richiesta di fondi europei per interventi di riqualificazione, mobilità sostenibile e innovazione. Cambia modus la richiesta dei fondi porfers. Tre progetti della città di Teramo infatti diventano un unico grande progetto da 5 milioni di euro. Noi faremo dei percorsi di mobilità alternativa ciclopedonali. All'interno di questi percorsi ci sarà la possibilità di intercettare e di, come dire, incontrare nel proprio cammino quelli che sono le nostre emergenze da un punto di vista urbanistico, architettonico culturale, il teatro romano, con all'interno anche l'innovazione tecnologica, penso al wifi o comunque alla banda ultralarga. All'interno di questo progetto abbiamo inserito anche il recupero del nostro mercato coperto attraverso anche qui un progetto di innovazione tecnologica e ne potranno essere inseriti anche degli altri, voglio dire. C'è un totale di 23 milioni di euro, di cui la metà di fondi nazionali, ossia 11,5 e 11,5 di natura europea. Questi fondi sono stati ripartiti per il momento in maniera uguale, ma è una pura indicazione di massimo, voglio dire. Tra i quattro cavolo di provincia, ossia 5 più 5 più 5 più 5 fa 20, 3 che sono stati messi da parte. La nuova programmazione 2014-2020 vuole essere profondamente diversa dalle esperienze precedenti, vuole essere una programmazione basata su una coerenza dei progetti, non più piccoli progetti tra loro non connessi, ma un'idea forte, un'idea centrale, un'idea di prospettiva. In questo senso il progetto presentato dalla città di Teramo è sicuramente esemplare per la forza dell'idea unitaria. Andiamo avanti, sempre sulla città, question time, maggioranza di nuovo in fibrillazione anche sui defibrillatori nei palazzetti e sulla piscina si scopre che due assessori non hanno votato. Andiamo ancora avanti, vediamo la provincia, global service tutti assolti dall'accusa di frode. A finire a giudizio due imprenditori e l'ex manager Molinari, ma per i giudici il fatto non sussiste. L'appalto per l'accusa e i lavori effettuati all'ospedale di Atri per 5 milioni di euro erano stati pagati ma non eseguiti a dovere. Campli, giro di vite dell'amministrazione contro chi maltratta gli animali, siglato l'accordo con le guardie zoofile. Insomma, per quanto riguarda questa notizia ci fermiamo anche col contributo video perché il comune di Campli è il primo comune nella provincia di Teramo ad effettuare questo protocollo, il secondo in tutto l'Abruzzo. Vediamo. Una convenzione importante contro il randaggismo è per la protezione degli animali, come funziona? Sì, Campli è il primo comune ad aderire a questo protocollo d'intesa e con questa associazione di volontari che si occupano appunto di tutela di animali. Praticamente con questa iniziativa noi vogliamo innanzitutto tutelare il benessere degli animali, quindi prevenire ogni forma di maltrattamento e soprattutto promuovere la lotta al randaggismo che è sempre più frequente nel nostro territorio molto esteso. Quindi saranno a supporto i nostri vigili, quindi una forma di tutela non solo del benessere animale ma anche dell'ambiente e del decoro urbano. Voglio ricordare che il comune di Campli con il regolamento tale ha previsto anche degli incendivi fiscali per quanto riguarda l'adozione di animali, di cani. Quindi l'appello è quello appunto che tutti i cittadini adottino un cane per avere appunto questa agevolazione, anche perché il cane randaggio qualora provoca i danni ne risponde il comune, quindi è costretto il comune a risarcire il danno a chi ha subito un pregiudizio. In particolare l'accordo prevede l'impiego dei volontari dell'associazione OIPA che hanno tenuto la nomina prefittizia a guardia particolare giurata. Un accordo questo che ha la durata di tre anni? Esatto, è treennale ma speriamo di portare avanti. È l'inizio, siamo il primo comune in provincia di Teramo che lo fa, il secondo in Abruzzo dopo Pescara e tanti comuni del nord già invece in questo senso sono avanti ma riteniamo l'attenzione agli animali una cosa fondamentale per il senso civico di una cittadinanza e quindi a Campi ci teniamo particolarmente a far sì che anche loro vengano tutelati nel giusto modo. Ed ora passiamo alla pagina dedicata alla costa, al Badriatica, anche gli albergatori contro i pennelli di Camaioni, le associazioni a sud del Vibrata pronte a ricorrere alle vie legali contro i lavori in partenza a Villa Rosa, parliamo dei lavori che riguardano l'erosione, i lavori fatti in precedenza nella stessa zona hanno portato una forte erosione nelle spiagge a sud, quelle di Albadriatica. Colonnella trovato ubriaco al volante scunta la pena lavorando per il comune. Civitella, produttori di tartufi esasperati per le incursioni dei cinghiali, più di tre mesi di attesa per il sopralluogo dei tecnici della provincia e rimborsi ridotti al lumicino. Ed ancora Giulianova, sfrattata, una famiglia con tre bambini avrebbe diritto ad una casa popolare ma non ce ne sono di disponibili a causa degli occupanti abusivi. La famiglia si rifiuta di pagare l'affitto a causa delle scarse condizioni igieniche in cui vivono assieme ad una figlia disabile al 100%. La proroga, vediamo dopo l'intervento dei carabinieri, il proprietario ha dato un altro mese per lasciare l'abitazione. Giulianova Calcio, gli ultra assaltano l'hotel dei giocatori, il portiere Rossetti lascia la squadra. Il caso, sempre Giulianova, la nuova caserma si farà solo al mercato coperto. Il consigliere di maggioranza Lorenzo Di Teodoro mette fine a proposte e polemiche. Ed ancora, vediamo Roseto Pavone pronto al secondo mandato. Il sindaco conferma che sarà lui il candidato del centrodestra nel 2016. Il bilancio del mio mandato è positivo, ha dichiarato a breve ci sarà l'ufficializzazione della mia candidatura. Don Ciotti a Roseto parla ai ragazzi, siate dei testardi e non mollate mai. Silvi trovato in possesso di una pianta e 6 grammi di marijuana ha denunciato 24enne. Torniamo a Roseto, il sindaco inaugura lo spazio aziendale della ristorazione, segnale di un tessuto commerciale e imprenditoriale vivo e dinamico. Ed ancora, vediamo Parco Marino, Pineto il tarra bocciato, la richiesta di Dorazio, respinto il ricorso d'urgenza dell'ex presidente contro Leone Cantarini, discussione nel merito fissata al 21 ottobre. Il ricorso riguarda l'ex presidente ha presentato ricorso per presunte irregolarità dell'assemblea e la mancata modifica dello statuto. Atril, Tarra salva di nuovo le poste di 13 miniere fino al 24 febbraio. Ed ambiente, sempre Pineto, decine di multe per gli inquinatori di Pineto, proseguono i controlli serrati della Polizia del Cerrano e delle Guardie Gadit. Ed ora ci fermiamo con il quotidiano della provincia di Teramo, la città. Torniamo al messaggero per vedere le notizie regionali. Vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Eccoci arrivati, vediamo come apre oggi. Ecco, la prima pagina dedicata all'Abruzzo dal messaggero e su Bericcarichieti salta il tavolo. I commissari confermano al vertice della banca molti dirigenti delle gestioni Broglie di Tizio. I sindacati abbandonano la trattativa. Sì, all'accordo per salvare i posti. No, alla continuità. E la fotonotizia a caso aperto all'Aquila. La terza via. Precari, fate un concorso. Ed ancora lotta al crimine. Escalation rispetto al 2014. Il maxilavoro delle fiamme gialle. Pescara capitale delle frodi. Triplicati i recuperi delle evasioni. E vediamo all'interno Abruzzo. Crescita esponenziale dei reati per droga e rifiuti. Più mezzi per le procure. I vertici dell'antimafia all'Aquila. Appello del sostituto Laudati. Fortissima sproporzione tra strumenti disponibili e lavoro. Parliamo di prevenzione patrimoniale e criminalità organizzata. Ieri firmato un protocollo. Ed ancora vediamo grandi rischi. Causa civile. Bernardini non sarà test. Il provvedimento. Garante dei detenuti. Bernardini. Riammessa. Prima pagina dedicata all'Aquila. La dirigente del Veto. E la terza via. Fate un concorso per i precari. In commissione garanzia. La Coluzzi. Da forfè. Ma poi si presenta. E cala il jolly. Bando per titoli. Con corsia preferenziale. Per i lavoratori che sono rimasti in bilico. Ed ancora vediamo il retroscena di Cialente. Le dimissioni e il duello con Pezzopane. Il provvedimento. Corsi fantasma. Scattano i sequestri. La Corte dei Conti. Parliamo della Confartigianato. La Corte dei Conti si affianca all'indagine penale. Bloccati i beni per 121 mila euro a ex Presidente e a di blocco conservativo. L'impiego dei soldi. Vediamo il punto nel servizio di Germana Dorazio. Proprio su questo articolo. È stato eseguito dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila a un sequestro conservativo per un importo di 121 mila euro emesso su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti del Capoluogo dalla sezione giurisdizionale per l'Abruzzo. Il sequestro patrimoniale trae origine da un'indagine svolta dai finanzieri, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente connesse all'erogazione di fondi nazionali destinati alla formazione professionale. L'investigazione di polizia giudiziaria era diretta ad accertare in particolare il regolare impiego del contributo percepito dalla Confartigianato, imprese della provincia dell'Aquila, che nel 2011 aveva ottenuto dei finanziamenti pari a 205 mila euro per l'erogazione di alcuni corsi di formazione professionali finanziati dalla Confartigianato di Roma, nell'ambito del progetto denominato Formazione a favore delle imprese e dei lavoratori aquilani colpiti dal sisma del 6 aprile del 2009. Le indagini di polizia giudiziaria sviluppatesi attraverso complesse analisi documentali e l'assunzione di testimonianze da parte dei docenti, amministratori e dipendenti di aziende coinvolte nella realizzazione dei corsi di formazione hanno permesso di raccogliere numerosi e gravi indizi di responsabilità nei confronti degli amministratori pro tempore di Confartigianato l'Aquila. Questi, al fine di rendicontare parte delle spese sostenute per le attività formative, predisponevano alcune note riferibili alle prestazioni di docenza e tutoraggio che di fatto non erano mai state eseguite o eseguite solo in parte, ovvero ancora svolte in modo difforme da quello rendicontato. Al termine delle indagini sono stati pertanto deferiti alla locale autorità giudiziaria, il legale rappresentante, unitamente all'amministratore delegato della Confartigianato di L'Aquila, resisi responsabili del reato di truffa e danni dello Stato. La Procura regionale della Corte dei Conti ha poi ritenuto le condotte contestate agli indagati generatrici di danno erariale e ha messo così il provvedimento di sequestro conservativo notificato dai finanzieri in questi giorni, finalizzato a garantire il ristoro patito dallo Stato in conseguenza della truffa accertata. Andiamo ancora avanti, Avezzano, biglietteria part-time, monta la protesta, esplode la rabbia dei passeggeri per la chiusura anticipata degli sportelli della tua ex ARPA. Manca il personale, le due impiegate, non riusciamo a coprire i turni di lavoro, lunghe code, pure ieri mattina dei pendolari tra insulti e minacce. Tagliacozzo dopo i sequestri di opposizione scatenata ed ancora sul Mona, piano opere pubbliche, via al plesso scolastico, in breve Avezzano, schiaffi e pugni per un parcheggio, la lite nei pressi di una palestra ricoverata e due persone intervengono, i carabinieri sul Mona, caos bus, mezzi vecchi e pochi controlli. Andiamo ancora avanti, prima pagina dedicata a Pescara, i nodi urbanistici, dall'area di risulta l'ex cofa, il comune apre agli architetti, presso l'avvio di un tavolo di confronto sugli obiettivi prioritari per la città, risposta al presidente Laurentosa che ha lamentato scarso coinvolgimento. Ed ancora vediamo l'Odissea, Guerino, avviata la procedura di revoca, concessione in bilico, il titolare a pochi giorni per onorare gli impegni. Consiglio solenne, domani la cerimonia per Ciatè del Fino d'Oro ed ancora la polemica, Ponte del Cielo, cancellati i due milioni dei privati, sospiri e testa parlano di sindaco, commissariato, progetto cambiato per limitare la spesa pubblica. E così come avevamo visto in apertura, nella prima pagina dedicata a Pescara del quotidiano dell'Abruzzo il centro, appunto il Ponte del Cielo è stato presentato a Pescara il progetto, ma per inizio anno è previsto l'avvio dei lavori oppure si perderanno i finanziamenti. Vediamo anche su questo articolo e su questa notizia il contributo video di Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, Ponte del Cielo, se ne parla tanto in queste ore, è arrivato l'ok dall'Aggiunta, la Regione ha già finanziato l'opera con un milione di euro, ma ci sono anche delle polemiche come d'altronde è accaduto anche in altri momenti. Io sarei sempre sorpreso se non ce ne fossero di polemiche, il punto è che il Ponte del Cielo è destinato ad essere un forte attrattore turistico, in un luogo simbolo, cioè al termine di quella direttrice che parte dalla stazione, attraversa il cuore di Pescara Corso Umberto a largo Mediterraneo e giunge al mare. Un nuovo punto di vista su Pescara, sostanzialmente la possibilità di guardarla dal mare, con la consapevolezza che questo appunto significa creare un qualcosa che la gente viene a vedere e dunque favorire l'attrattività della nostra comunità e favorire anche la bellezza in un certo senso. Un pontile già c'era tanti anni fa a Pescara, negli anni 30, quindi sarebbe questo anche un ritorno indietro nella storia? Correva l'anno 1934, allorché questa prospettiva che dicevo prima che parte dalla stazione e arriva al mare aveva un pontile in legno, poi questo pontile è evaporato sostanzialmente, ma ciò significa anche recuperare se vogliamo una dimensione storico-architettonica della città che appunto vogliamo riproporre nel XXI secolo. Se tutto andrà bene, quando inizieranno i lavori? Diciamo che l'auspicio è che questi possano iniziare entro 3-4 mesi partendo da oggi con un cronoprogramma che prevede il completamento dell'opera entro i 12 mesi. È una sfida naturalmente che ci avvince, che vogliamo portare a termine fino alla fine, perché naturalmente si tratta di aggiungere un pezzo importante e mancante alla nostra comunità. Ancora dal messaggero vediamo Pescara Capitale, delle frodi, sequestri milionari, la finanza ha triplicato in un anno le somme recuperate, operazione Bancomat, Mattucci e Gentile Stamani dal GIP. L'inchiesta alla difesa del ginecologo Rosati davanti al GUP ha riorganizzato un reparto fuori controllo. Secondo l'accusa del PM, Varone avrebbe indotto le assistite a rivolgersi a lui come medico privato. E lavori sul Ponte Nuovo, vietato utilizzare l'acqua del fiume. Ancora avanti, verso il rimpasto, giunta Maragno, accelera a Montesilvano il rimpasto. Il sindaco chiamato a sostituire Brocchi e Verrigni, pronto l'ingresso di De Vincentis, il rebus delle quote rosa, avviate le consultazioni con i referenti del centrodestra. L'obiettivo è di formare una squadra solida e produttiva. Sempre a Montesilvano, spaccio di droga tra i senegalesi in manette, l'operazione dei carabinieri. Ancora chieti, carichieti tra sindacati e commissari e rottura, scontro per la nomina dei nuovi vertici aziendali. Confermati molti dei dirigenti voluti da Ditizio e sbrolli. Spugno allo stomaco, ma va trovato l'accordo per i posti. Ed ancora vediamo nella cronaca l'inchiesta, sequestrati in moto e furgone, sindaga per omicidio colposo, la morte di Salvati affidata a una perizia sul tamponamento. Inchiesta 2, rogo di Torrevecchia, sospetti su quattro giovani. Ed ancora vediamo il programma per di primio un roadmap e obiettivo Parlamento. Nel taglio basso, invece, Turismo Bianco, Maielletta, D'Alfonso Predica Unità, la speranza è quella di realizzare un consorzio di gestione. E la polemica, Camere di Commercio, il governo tace, l'onorevole Di Stefano, critico sulla fusione con Pescara. Vasto incendio notturno, distrutto bar del Corso, per i carabinieri dovrebbe trattarsi di un cortocircuito, ma le verifiche lasciano al momento aperte tutte le ipotesi. Tanta paura per i residenti della centrale, via del Borgo Antico. Il calore ha fatto scoppiare anche la vetrina di un locale vicino. Casa di cura abusiva, Palmoli, tutto dovrà cessare entro il mese. Ancora Lanciano, attività della Polstrada consegnata alla Fremont, il lavoro sul territorio del comandante provinciale. A Lanciano aggredì l'aiuto primario, cinquantenne a giudizio. Al centro della vicenda una discussione su ricovero rifiutato dal marito. Ad Ortona torna all'ufficio del giudice di pace. Accolta la proposta del comune, il ministero ha integrato anche un'altra unità. Andiamo avanti. Prima pagina dedicata a Teramo. L'inchiesta Teramo Basket, dirigenti verso il processo. L'ex presidente Carlo Antonetti, l'ex amministratore Biancacci e l'ex responsabile dei giovani Polidoro rischiano il rinvio a giudizio. Gli accertamenti riguardavano l'emissione di fatture non corrispondenti per un importo di oltre un milione di euro. Tragico volo dalla via d'otto indagato. Chi diede un passaggio alla ragazza, Giulia Di Sabatino, aveva festeggiato i 19 anni. Atto dovuto della procura per capire come si svolsero i fatti. Ed ancora vediamo in basso, comune, dedichiamo l'ipogeo a Graziani. La proposta è partita dal consigliere Guido Campana che chiede un laboratorio artistico. Ed ora sulla costa, Giulia Nova, tassa di soggiorno, comuni costieri divisi. Il sindaco Mastromauro ha convocato una riunione tecnica. Assente la collega Ricchi di Tortoreto, Silvio e Roseto per il no. Al tavolo saranno aggregati anche gli operatori turistici. Sul tappeto la possibilità di avere nuova linfa nelle entrate. Il blitz degli Ultrasa, Giulia Nova, il portiere Rossetti, ha rescisso il contratto. Ed ancora al Badriatica in breve, blitz nei nightclub. Identificate 90 persone. Tortoreto, variante al PRG, scontro tra opposizione e giunta. PD e Movimento 5 Stelle sollecitano la maggioranza ad un confronto. E un circolo velico chiede alle istituzioni una sede permanente. E vediamo ancora in breve a Giulia Nova, ok, all'abbattimento di Palazzo Gavioli. Accordo raggiunto tra proprietà e comune, ma ci sono da sbloccare i cantieri. E a Roseto, Donciotti, bagno di folla alla Piamarta. Ieri si è svolto l'incontro. Ed ora la pagina sportiva. Bruzzo Sport, dal messaggero Zuparic. Io, il guerriero del Pescara. Il duro ventitrenne rivelazione del Delfino. Chi viene dalla ex Jugoslavia ha fame. Ed ancora quest'anno per me ha dichiarato sarà difficile giocare in mediana, ma sono pronto a ogni esigenza del mister Oddo. Ed ancora vediamo il calcio di Lega Pro. Teramo dietro front Vivarini. Dobbiamo dimenticare la B. L'allenatore analizza il difficile momento. Battere la lupa Roma. Il gruppo deve capire che ora stiamo lottando per la salvezza, ha dichiarato il mister Vivarini. Daniello, intanto, Campitelli non molla il club. Quindi Daniello è intervenuto sulle voci che stanno circolando in questi giorni in città. e appunto il delegato dell'amministratore e delegato del Teramo, Daniello, ha dichiarato nessuna difficoltà. Abbiamo un budget importante. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Andrea Costantini. Abbiamo insomma un po' sentito nell'aria, in paese, in città, che si diceva appunto che il Teramo era un po' in difficoltà economiche, che il Presidente volesse mollare, che la situazione era insomma un po' critica da un punto di vista economico. Questo insomma lo smentisco io categoricamente. L'ultima riunione l'abbiamo fatta ieri sera alle 9 di sera sul budget, perché è ovvio che insomma la sciagura della retrocessione forzata è stato un colpo insomma un po' per tutti e principalmente anche per le casse, per le finanze, perché la Serie B portava a livello di mutualità, insomma degli introiti, a livelli di mutualità intendo diritti televisivi, impiego giovane e quant'altro, degli introiti insomma importanti. Questo qua ha fatto insomma sì che la società, non dico si è trovata in difficoltà, però c'erano altri tipi di progetti. Con calciatori, ecco che ci tengo insomma ad evidenziare anche questo punto, che sono rimasti volentieri, non abbiamo dovuto fare nessuna forzatura nei confronti di nessun'anzio. Qualcuno, Cenciarelli in ultimo e ci saranno anche altri, molto probabilmente in queste settimane, hanno prolungato il contratto. Quindi stiamo lavorando noi ad una ottimizzazione, a me piace questo termine, perché la parola tagli non è mai bella. Stiamo lavorando quotidianamente per insomma limare in positivo questo budget, che per la categoria, ve lo assicuro, insomma ho visto un po' di budget, sia di Lega Pro che di B, è un budget importante insomma. Bah, ci aspettiamo qualcosa dal CONI? Sì, perché ci aspettavamo tanto anche all'inizio, però adesso ovviamente i ricorsi sono stati incardinati, quindi ci aspettiamo che ci sia insomma una riduzione della pena, sia da un punto di vista di squalifica del Presidente ovviamente, che di pena pecuniaria e in primis quella di insomma dei punti in classifica. Torniamo alla Serie B, Lanciano, emergenza in attacco, a Bari mancheranno Piccolo e Marilungo e poi c'è anche da Centelinare, Ferrari. Mister Daversa potrebbe puntare sul giovane di scuola Juventus per dare consistenza al reparto. Infine, calcio di Lega Pro, l'Aquila chiede la restituzione di un punto. E con l'Abruzzo Sport e con la pagina appunto sportiva termina la nostra rassegna stampa, quindi l'appuntamento con Mattino 6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!